Il treno Frecciapianca, 9806, di Trenitalia, delle ore 6, per Milano Centrale, è in partenza dal binario 5. Ferma a San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forli, Faenza, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza. Carozze dalla 1 alla 3 in testa al treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 coda treno. Il treno regionale 23673, di Trenitalia, delle ore 6 e 15, per Roma Tiburtina, è in partenza dal binario 7. Il treno regionale 23908, di Ferrovia Triatico San Gritana, proveniente da San Vito Lanciano, e diretto a Terramo, delle ore 6 e 29, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allottanarsi dalla linea gialla. Ferma a Montesilvano, Silvi, Pineto Atri, Scerme di Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulia Nova, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Bellante, Ripattone, Castellanto Canzano. Il treno regionale 12077, di Trenitalia, delle ore 6 e 35, per Termoli, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni, eccetto Montinero Petacciato. Il treno regionale 23675, di Trenitalia, proveniente da Giulia Nova, è diretto a Roma Tiburtina, delle ore 6 e 59, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allottanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pescara Porta Nuova, Chieti, Manopello, Alanno, Scafa San Valentino, Caramanico Terme, Piano d'Orta Bolognano, Torre dei Passari, Tucco Castiglione, Bussi, Popoli Vitorito, Prato La Pelligna, Sulmona, Celano Vindoli, Avezzano, Tagliacozzo, Carsoni, Manta e la Sambucci, Valle della Miene, Tivoli, Guidoni e Montecelio. Il treno regionale 12.044, di Trenitalia, delle ore 6 e 45, per Ancona, è in partenza in ritardo dal binario 8. Ferma a Montesilvano, Silvi, Pineto Atri, Scerne di Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulia Nova, Tortoreto Lido, Alba Apriati Canareto Controguerra, Porto d'Ascoli, San Benedetto del Tronto, Grotta a Mare, Cupra Marittima, Pedaso, Porto San Giorgio Fermo, Porto Sant'Elpidio, Civita Nova Marche, Potenza Piccena, Montelupone, Porto Le Canati, Loreto, Osimo Castelfilardo, Camerano Aspio, Varano. Il treno intercity 604, di Trenitalia, delle ore 7 e 10, per Milano Centrale, è in partenza dal binario 6. Ferma a Giulia Nova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio Fermo, Civita Nova Marche, Loreto, Ancona, Senigallia, Fanò, Pesaro, Riccione, Rimini, Cesena, Forli, Faenza, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo. Il treno regionale 12.04.1, di Trenitalia, delle ore 7 e 20, proveniente da Ancona, è in arrivo al binario 7. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 23.9.1.6, di Ferrovia Adriatico San Gritana, delle ore 7 e 35, proveniente da San Vito Lanciano, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 21.5.2.9, di Trenitalia, delle ore 8 e 06, proveniente da San Benedetto del Tronto, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Frecciapianca 98.10, di Trenitalia, proveniente da Dari Centrale, è diretto a Milano Centrale, delle ore 8 e 11, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Pimini, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza. Carozze dalla 1 alla 3 in coda al treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 testa treno. Il treno regionale 21.5.2.1, di Trenitalia, delle ore 9 e 50, proveniente da Rimini, è in arrivo al binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Frecciapianca 98.16, di Trenitalia, proveniente da Lecce, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 11 e 11, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Ancona, Pesaro, Pimini, Bologna Centrale, Ferrara, Provigo, Padova, Venezia Mestre. Carozze dalla 1 alla 3 in testa al treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 coda treno. Il treno Frecciarossa alta velocità 95.93, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, è diretto ad Ari Centrale, delle ore 11 e 54, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Termoli, Foggia. I livelli Executive Business sono in testa al treno. Su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Il treno regionale veloce, 17.55, di Trenitalia, delle ore 13 e 45, proveniente da Milano Centrale, è in arrivo al binario 7. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Frecciapianca 98.24, di Trenitalia, proveniente da Lecce, è diretto a Torino Porta Nuova, delle ore 15 e 11, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Alcuna, Pesaro, Pimini, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti, Turino, Ligotto. Carozze dalla 1 alla 3 in coda al treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 testa treno. Il treno Frecciapianca 98.09, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Taranto, delle ore 15 e 43, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Termoli, Foggia, Barletta, Bari Centrale, Gioia del Colle. Carozze dalla 1 alla 3 in coda al treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 testa treno. Il treno regionale veloce, 17.54, di Trenitalia, delle ore 16 e 20, per Milano Centrale, è in partenza dal binario 7. Ferma Giulianova, Alba Adriatican, Reto Controguerra, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio Fermo, Civitanova Marche, Porto Le Canati, Loretto, Camerano Aspio, Ancona, Falconara Marittima, Senegallia, Fano, Pesaro, Cattolica San Giovanni Gabice, Riccione, Primini, Cesena, Forli, Faenza, Imola, Castel San Pietro Terme, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola. Piacenza, Lodi, Milano, Rogoredo. Il treno regionale, 23.693, di Trenitalia, delle ore 18.46, per Roma Termini, è in partenza dal binario 1. Ferma Alpescara, Porta Nuova, Chiedi, Scapa San Valentino, Caramanico Terme, Torre dei Passari, Bussi, Popoli di Torito, Prato La Peligna, Sulmona, Cullarmele, Celano Odindoli, Avezzano, Tagliacozzo, Carsoni, Mandela, Sanducci, Valle della Miene, Tivoli, Guidoni e Montecelio, Bagni di Tivoli, Lunghezza. Grazie.